Un Halloween da paura a Cesano Maderno. Per quest'anno la città Brianzola ha organizzato diversi eventi per celebrare la tradizionale festa del 31 ottobre, anche per dare un segnale importante di ripresa in vista di un ritorno alla tanta auspicata normalità. Come di consueto è stato confermato il tradizionale mercatino nella particolare cornice di Piazza Esedra, con stand gastronomici e gli articoli di vario genere, dall'abbigliamento all'oggettistica, riservando un'attenzione anche alla solidarietà. Noi siamo di Ebano Onlus, un'associazione che si occupa di donne minori in difficoltà. Oggi siamo qui e chiediamo una libera offerta in cambio di qualcuna delle collanine che le nostre ragazze fanno o di cose che ci sono state donate, perché come diciamo sempre la solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai. Grazie Cesano Maderno per questa opportunità. Non solo, ma per l'occasione sono stati organizzati altri momenti pensati per bambini di varietà e i loro genitori. Alla biblioteca civica Pappalettera l'associazione Amici della Biblioteca ha dedicato due turni del pomeriggio ai bambini dai 6 ai 10 anni, raccontando storie in tema Halloween e intrattenendoli con gli spettacoli organizzati dai volontari. Affascinante la visita a tema che si è invece svolta nelle sale dell'incantevole palazzo Arese Borromeo, dove bambini e adulti sono stati invitati a partecipare a un percorso al buio e con il solo aiuto delle torce alla scoperta del fantasma che abita il palazzo. Insomma, un'opportunità per i più piccoli di familiarizzare giocando con la dimora storica di Cesano Maderno e con il suo magnifico giardino, come spiegato nei giorni precedenti anche dall'assessora alla cultura Silvia Boldrini. Il maltempo ha purtroppo obbligato gli organizzatori a rinviare al 6 novembre lo spettacolo notturno con visita teatralizzata che sarebbe dovuto svolgere nel giardino Arese Borromeo in serata a cura della compagnia Il Sottobosco. La pioggia non ha comunque fermato la voglia di tanti cittadini di godersi una serata di divertimento assieme ai propri figli, voglia confermata tanto dalla buona partecipazione agli eventi quanto dall'entusiasmo portato in piazza Esedra con travestimenti originali e, vien da dire, davvero da paura. Guarda, mi sono truccata più dei bambini! Con i bambini si fa questo e altro.